Mi sento anche a mio atto in qualche modo. Allora, lui ha fatto una domanda iniziale, perché poi parlerò magari delle riviste, no? Perché? Perché intanto, magari se si pensa oggi, la fotografia è l'emblema della modernità in qualche modo. Un giovane a vent'anni come me, che dopo la guerra si occupava, lo dipingevo, mi occupavo di cinema, ma che era, anzi, il mio sogno era quello di fare il film. Avevo anche una cinepresa, che poi barattai con una macchina fotografica e quindi iniziai a fare il fotografo. Ma non, la fotografia mi interessava, indipendentemente dal fare l'immagine, da quello che è la problematica, la fotografia come mezzo moderno contemporaneo, no? Sull'immagine. E devo dire che, non so se avevo un diamo letto dentro, perché non avevo una cultura specifica di cinema abbastanza. Avevo letto tutti i missaggi sul cinema. Da Bella Ballast, la Satur, la Eisenstein, eccetera, tanto che qualche operatore, come dicevo, Elio Bartolini, che poi fu anche regista, eccetera, mi invidiava perché avevo letto tutto questo che lui invece ignorava. Allora, diamo letto qual è, per esempio, io cominciai a scrivere, e le riviste di fotografia molto underground sono state importantissime per creare anche un plafondo di interesse sulla fotografia. Per esempio, a dire che la fotografia era il linguaggio moderno, dall'uomo della preistoria che disegnava un bisonte nella grotta alla fotografia. E sembrava una cosa strana, per male che la fotografia era il linguaggio della modernità. Quindi niente da fare. Oggi è ovvio, palese, banale. Allora era un po' meno banale, perché c'era sempre la cultura, c'era sempre il cinema. Il cinema perché? Il cinema aveva a che fare con gli intellettuali, con gli scrittori, che davano una valenza culturale. Mentre la fotografia era ancora pensata, quella dello scattino, come si chiamavano prima ancora dei paparazzi, che scattava le foto sulle schiaglie o schiaglie dell'uomo a Milano, la bottega dietro l'angolo. C'era un mio amico, che poi fu anche un grande produttore di fotografia, che era Gregorio Scolos di Asano Dezimo, che diceva, io non dico che sono fotografo, dico che sono ottico, perché la parola ottico era più qualificata rispetto alla parola fotografo.